A seconda delle dimensioni della disegnazione geografica dei computer connessi, si utilizzano nomi differenti, reti locali LAN, reti geografiche WAN. Le reti locali LAN sono le reti più piccole e possono coprire un'area corrispondente a dimensioni varianti, tra quelle di un ufficio e quelle di una struttura aziendale, composte da più edifici. Sono utilizzate soprattutto per consentire a un gruppo di utenti di condividere i dati o i programmi software, utili per un certo tipo di attività aziendale. E' possibile creare una rete locale utilizzando cavi, in questo caso si parla più propriamente di LAN, oppure basandosi su collegamenti senza fili, cioè wireless. Le reti WAN hanno dimensioni geograficamente estese e possono arrivare a coprire un'intera nazione. In molti casi, per realizzare questo tipo di rete, senza eccessivi costi, vengono utilizzate alcune infrastrutture già esistenti, per esempio le linee telefoniche, che però, non essendo state progettate per questo scopo, non permettono la trasmissione di segnali ad alta velocità. Oltre ai mezzi trasmissivi, posati a terra, costituiti di cavi fisici, le reti WAN possono utilizzare anche i satelliti o i punti radio.